Non si ferma la scia di incidenti stradali all'incrocio della provinciale che collega via Castel del Monte e via San Magno, la cosiddetta rivoluzione, nelle campagne di Corato. L'ultimo incidente si è registrato nel primo pomeriggio di ieri. Intorno alle 14, forse a causa di una mancata precedenza, una Hyundai Tucson e una BMW si sono scontrate in maniera violenta. La Hyundai si è ribaltata più volte e ha terminato la sua corsa in un terreno. Nell'impatto sono rimaste ferite cinque persone, soccorse dagli operatori del 118 e della misericordia di Andria e condotti presso gli ospedali di Molfetta, Corato ed Andria. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Ruvo e i carabinieri di Trani che hanno curato i rilievi del caso.